buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dicesse vera e professionale con la v maiuscola unica al mondo oggi rispondo ad un signore di oslo norvegia che mi chiede dottore l'ipnosi dicesse vera e professionale con la v maiuscola può fare al caso di chi ha problemi di sesso sì o no la risposta è sì 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 il sesso come ogni altra parte del tuo corpo dalla pelle agli organi alle gandole alla circolazione del sangue al pancreas ai polmoni tutto è regolato dal tuo subcosciente dal tuo pilota automatico e chi dice il contrario chi pensa che l'ipnosi dicesse vera e professionale con la v maiuscola funzioni soltanto per cose intangibili come atteggiamenti mentali quant'altro sbaglia perché il vero miracolo della tua mente in questo caso del sesso ma in qualsiasi altra parte del tuo corpo lo fa il tuo subconscio le parole dcs le suggestioni dcs che hanno quasi un secolo di un antico sapere e che derivano direttamente provengono direttamente da los angeles baby hills dalla dottoressa rina prunini dal professore dottor michelanghelgarai i miei maestri miei mentori miei associati miei amici per l'eternità io ho messo soltanto un 30 per cento ti posso garantire che in quasi un secolo di esperienze dirette sono state tarate create tarate su migliaia migliaia di persone per cui non sono parole come fanno altri personaggi famosi e meno famosi internazionali che ti buttano lì due parole no devono essere tarate per il tuo subconscio per spingerlo educarlo a cambiare canale a trovare la soluzione anche per problemi di sesso esistono infatti dei veri e propri capolavori tre audi mp13s dal titolo no impotenza sessuale no eiaculazione precoce no frigidità che ti posso garantire che centinaia e centinaia di persone nel mondo seguendo la lettera le istruzioni molto facile la prova di un nonno la prova di un idiota la prova di un pigro hanno risolto il loro problema senza neanche fare sessione online di prosi dicesse che al momento sono sospese per problemi di tempo di impegni anche con un solo audio mp13s altre persone hanno integrato con più audio e ti posso garantire che se tu butti l'orologio il calendario il tempo nella pubella come dicono in francia nel cestino della spazzatura perché il metodo dicesse unico al mondo perché non richiede nel tuo impegno nella tua volontà né il tuo tempo né il tempo la partecipazione del tuo caro ti posso garantire che vedrai a dir poco meraviglie mentali e fisiche fisiche perché l'ipnosi dicesse vera professionale la tua vita visibile e invisibile che tu dia o non dia il tuo consenso che tu creda o non creda nel potere della tua mente perché qui l'ipnosi dicesse vera professionale con la v maiuscola non ha nulla a che vedere con la religione né con la politica per cui soltanto a te la scelta se rimanere dove stai oppure cambiare destino cambiare film alla tua vita per il bene tuo e il bene dei tuoi cari considera che non sto qui per vendere audio mp3 dicesse ma per la mia mission è quella di diffondere divulgare il mio metodo dicesse unico al mondo per cui non mi interessa vendere perché grazie a dio grazie al mio subcosciente e grazie a me sto bene per le prossime 37 vite e non lo dico per vantarmi ma per ispirarti poi se non vuoi scaricarti audio mp3 dicesse da qualsiasi parte del mondo in completo anonimato che ho ceduto poi tutti i diritti la mia associazione ipronogi associati lo seggius baby hills puoi anche andare da un professionista dell'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi paura l'ipnosi da film neanche con la stessa puro ottima con i prosi conformista commerciale sederti importante è che questo professionista abbia già risolto casi come il tuo per con l'ipnosi per non spendere soldi admin cam inutilmente e iniziare perché non esiste strumento più potente della tua mente del tuo subcosciente non esiste al mondo esperienze vissute direttamente e indirettamente perché poi ho aiutato centinaia e centinaia di persone nel mondo dal 2008 ad oggi e io sono l'unico caso al mondo che da più di 12 anni si ipnotizza h24 a certi livelli come in questo momento sono ipnotizzato ma non sembra né a te né ai sedicenti esperti di ipnosi o di materie mentali funziona 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 per cui sta a te dire sto bene non sto bene sessualmente posso dare di più magari hai un calo di libido di desiderio sessuale oppure sei freddo a letto oppure sei impotente non puoi prendere nel viagra né il chalis perché il tuo medico magari te lo sconsiglia oppure vieni molto velocemente quando il rapporto con la tua donna con il tuo partner per cui se vuoi eliminare tutti questi problemi devi utilizzare il potere della tua mente con l'ipnosi di cs vera professionale con la mia maiuscola senza se e senza ma e quindi aspetto le tue domande commenti osservazioni dubbi incertezza ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni perché sono spessissimo all'estero visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi autipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cs del dottor claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cs del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico a mia amica mia dal dottor claudio saracino e alla prossima alla tua ciao